sottomettere un narcisista. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video e vediamo, vediamo in questo video quali sono 5 modi per sottomettere un narcisista. Nel frattempo però ti ricordo che sul canale ti puoi iscriverti, puoi abbonare, iscrivere ovviamente gratuitamente, puoi abbonarti e se vuoi puoi dare un sostegno al canale. Dare un sostegno al canale è facile, basta che clicchi sul tastino, basta che clicchi sul tastino col dollarino e puoi dare un sostegno al canale. Ora vediamo come invertire, diciamo, la situazione con i narcisisti, perché il narcisista, salutiamo laurem, il narcisista, diciamo, utilizza delle situazioni ovviamente che bisogna invertire, diciamo così, la psicologia, la psicologia del narcisista fondamentalmente, perché il narcisista normalmente vuole sottomettere te, ma se è vero il verso è vero anche l'inverso, cioè se è vero che il narcisista ti vuole sottomettere, che ti può sottomettere, è anche vero che facendo le cose giuste tu puoi sottomettere il narcisista. Scusate, ho tolto a Laura M, devo richiavarmela, scusa Laura M, ti ho tolto la moderazione, ma tu sei abbonata, quindi ti ho richiavata subito e salutiamo anche Roxy Rosa, salutiamo Sabina e ricordo che per essere chiavati, cioè per avere la chiave, dovete abbonarvi al canale. Laura M è abbonata e quindi l'abbiamo chiavata di nuovo. Allora, quindi questo è un punto molto importante, è un punto fondamentale e vediamo come sono i modi per sottomettere il narcisista. Per sottomettere il narcisista devi entrare nella psicologia del narcisista, devi entrare nella psicologia del narcisista. I narcisisti hanno una psicologia, psicologia nel senso di hanno una modalità comunicativa, hanno dei punti deboli, quindi ovviamente se vuoi sfruttare il punto debole del narcisista devi in qualche modo, devi in qualche modo diciamo tartassare il narcisista. Questo è un punto molto importante. Allora, vediamo un attimino qual è la psicologia del narcisista e come fare a gestire la psicologia del narcisista. Allora, è interessante questo perché ci sono dei punti. Intanto il narcisista è un po' come una pianta carnivora, cerca di succhiare il sangue. Quindi questa sua esigenza di succhiare il sangue è, come possiamo dire, è un vampiro, ma il vampiro è dipendente dal sangue. Quindi intanto una volta che tu hai capito che ha a che fare con un narcisista, devi evitare di essere una vittima e devi capire che ha a che fare con un narcisista, devi renderti conto che perché vuoi in qualche modo sottomettere il narcisista, perché se tu vuoi sottomettere il narcisista puoi farlo ma devi capire perché. Il motivo fondamentale è non finire vittima del narcisista, perché se finisci vittima del narcisista ti verrà succhiato il sangue. Il narcisista è una pianta carnivora, il narcisista è un buco nero. Quindi invece capire quali sono i modi per sottomettere il narcisista è una forma di autotutela, è una forma di tutela, perché potrai intanto riconoscere i segnali principali e anche potrai distinguere tra le varie e le forme più diffuse di queste tipologie di manipolatori, che poi non è detto che siano narcisisti certificati o non certificati, ma ovviamente ci sono quelli che ad esempio anche nelle amicizie ti rompono i coglioni, ti cagano il cazzo, sono sempre lì a chiedere, a chiedere, e danno poco. Ci sono gli scroconi. Gli scroconi non è detto che siano narcisisti, però gli scroconi, gli scroconi sono assimilabili diciamo, salutiamo Tug. Poi ci sono anche diciamo altre tipologie che sono comunque sempre, come dire, sempre dei, possiamo dire, delle piante carnivore che ti tolgono vitalità. Ovviamente la società odierna è una società narcisista, il narcisismo diciamo trassuda, no? Ad esempio nei social, ripeto, non è detto che sia un narcisismo certificato o non certificato, ma la voglia, l'egocentrismo, la voglia di apparire è qualcosa che si manifesta. Tante persone hanno voglia di apparire, hanno voglia di sottomettere gli altri e chi ha voglia di sottomettere puoi anche sottometterlo, perché il mondo è pieno di persone che non hanno né arte né parte. Salutiamo la carampa gnocca, Patrizia Perotti. Ci sono persone che non hanno né arte né parte, che non valgono niente. Tra l'altro con la carampa gnocca metteremo giù un libro, prima o poi, salutiamo anche Duck. E accade così che, diciamo, ci sono persone che non hanno né arte né parte, né cultura, né abilità di ogni genere, che però vogliono esibirsi fondamentalmente, vogliono apparire, vogliono sottomettere gli altri, quindi cedono nei comportamenti e cedono nel cattivo gusto. Ad esempio, queste persone qua, te le devi togliere dai coglioni, perché tu devi imparare a sottomettere il narcisista, ma non devi farti sottomettere dal narcisista, quindi riconoscere che quello è un punto debole. Un altro fattore, diciamo, che secondo me è un po' parte dell'allargamento, diciamo, del narcisismo è un po', come possiamo dire, secondo me, l'educazione odierna fondamentalmente. Molte donne che oggi hanno 50 anni, 60 anni coltivano dei figli narcisisti perché, diciamo, le famiglie si disgregano fondamentalmente, no? Famiglie disgregate, famiglie separate, secondo me, facilitano comunque figli che si isolano molto di più, che sviluppano dei conflitti con i genitori, che sviluppano qualche, come dire, tendenza che potrebbe essere o narcisistica o di altre cose. La disgregazione della famiglia, io credo che sia, che è un fenomeno odierno, diciamo, della generazione dei cinquantenni di oggi, perché tra i cinquantenni di oggi, prendete, a parte quelli che, come me, non si sono mai sposati, quelli che si sono sposati sono, io credo, il 90% separati. Non so se conoscete qualche cinquantenne tra i cinquanta e i sessant'anni di oggi, se ce n'è qualcuno che non è sposato, che, diciamo, che non è separato. Sono pochissimi, la maggior parte sono separati, perché quindi c'è una disgregazione familiare e questa disgregazione familiare porta sicuramente ai figli con qualche problematica di diversa natura, tra cui anche magari il narcisismo. Quindi questo è un punto fondamentale. Come possiamo, diciamo, sottomettere, tra virgolette, il narcisista? Ma sottometterlo con l'obiettivo di non farci sottomettere, sottometterlo con l'obiettivo di non farci vincolare fondamentalmente, perché il vero problema è che chi si innamora dei narcisisti ne pagherà, ne pagherà naturalmente le conseguenze. Chi si innamora dei narcisisti sarà bistrattato. Se tu ti vai a innamorare di un narcisista e speri di riuscire a venirne fuori, avrai dei grandi problemi. Tra l'altro, diciamo, il narcisismo, il concetto, diciamo, di narcisismo, già Freud l'aveva sviluppato, no? Già Freud aveva sviluppato a suo tempo il concetto di narcisismo, parlando di narcisismo primario, no? Che il narcisismo primario è un qualcosa che funziona, no? Cioè, però, come diceva prima qualcuno, il narcisista non ha sviluppato, no? È rimasto un bambino, perché è normale che un bambino piccolo è un narcisismo. È il narcisismo secondario che non va bene, è il narcisismo primario, ce l'hanno tutti e va bene, però quando un bambino percepisce, è probabilmente dovuto al fatto che anche i genitori si sono disgregati, non gli hanno dato un'educazione, o gli hanno dato un'educazione parziale, fondamentalmente, e loro pensano che tutto gli sia dovuto, no? Quindi restano, continuano a restare bambini anche crescendo, pensando sempre che tutto gli sia dovuto, pensando che magari i genitori non gli hanno dato quello che l'educazione, che avrebbero dovuto, perché oggi c'è veramente un eccesso di narcisisti, fondamentalmente, salutiamo essenza. Jung ha un'idea invece diversa. Jung parla dei complessi e Jung, ad esempio, identifica il complesso del narcisismo, no? Jung, ad esempio, descrive l'individuo come talmente preoccupato della propria, del proprio io, da disinteressarsi fondamentalmente delle relazioni con gli altri, no? Secondo Jung il narcisismo è un complesso, diciamo, è un complesso, cioè un pensiero complesso. È interessante il concetto di Jung perché Jung introduce, fa percepire il narcisismo quasi come un egregore, no? Quindi, secondo Jung il complesso del narcisismo, questo essere concentrati su se stessi, ostacola un equilibrio, no? Un equilibrio interiore, quindi ci si identifica totalmente verso, con la parte superficiale del nostro essere. Quindi, ovviamente, c'è una differenza tra Jung e Freud, ma comunque, al di là di questo, dobbiamo tenere presente che una delle cose fondamentali, una delle caratteristiche fondamentali dei narcisisti è che manca, diciamo, una regolamentazione dell'autostima, cioè i narcisisti hanno un'autostima superficiale molto alta e quello è un loro punto debole, ma hanno un'autostima che non va in profondità. È come, per fare un esempio, no? È come costruire una casa bellissima, solida, priva di fondamenta. Il narcisista, l'autostima del narcisista è così, è tutta, diciamo, sviluppata verso l'alto e non sviluppata nelle fondamenta. Quindi capite che una casa così alla prima intemperia è destinata a crollare. Alla prima intemperia una casa del genere è destinata a distruggersi. Questo è un po' il concetto, se vogliamo, di fondo di queste tipologie di persone. Ovviamente dovete tenere presente queste cose. Tra l'altro, appunto, come dice la nostra Roxy, ricordo che alle 18.45 sul canale Massimo Terramasco c'è la lezione di PNL. Chi volesse partecipare può fare l'abbonamento base. I corsi sono lunedì e giovedì, poi sempre sul canale ci sarà la premiere e sempre sul canale Massimo Terramasco poi ci sarà la live alle 19.30, alle 21 la premiere, alle 22 la musica. Quindi ancora tanti appuntamenti. ma il seminario vi suggerisco di farlo, basta che andate sul canale Massimo Terramasco e fate l'abbonamento base. Ora quindi, il primo punto debole del narcisista è quindi l'autostima. L'autostima e voi potete sottomettere un narcisista togliendogli autostima, cioè non stimandolo, dandogli disistima. La disistima è una clave, quindi quando avete che fare con un narcisista utilizzate delle parole. Ecco perché i narcisisti temono il dubbio, no? Salutiamo Rosi. I narcisisti temono il dubbio, temono follemente il dubbio, quindi utilizza delle frasi per sottomettere il narcisista anche nelle relazioni sentimentali affettive. Ma sei sicuro di questo? Genera dubbi, genera tardi. Quando andate a letto, se andate a letto con un narcisista, ditegli delle frasi, se è maschio dite delle frasi, ma sei stanco? Come mai? Di solito, diciamo, ti vedo proprio stanco, ti vedo un po' afflosciato, mi sembra che ti sei, stai afflosciando un po' troppo in questo periodo, ma stai male, ha delle preoccupazioni. Come mai ti stai afflosciando così in questo periodo? Ecco, utilizzando queste frasi, afflosciando, oppure diciamo, sei diventato veramente veloce, proprio hai, se fossi un supereroe dovrebbero chiamarti Flash, l'uomo più veloce della luce. E quindi questo è un punto fondamentale, no? Quindi la disistima è una delle, dei punti deboli del narcisismo, no? Quindi per sottomettere un narcisista fai leva sulla sua disistima e presentagli, diciamo, delle cose associate a una possibilità di autostima, dicendo di certo che se facessi questo faresti una bella figura, perché un'altra cosa che teme follemente il narcisista è il giudizio negativo degli altri, cioè il fatto che le altre persone possano giudicarli negativamente. Quindi il giudizio degli altri lo temono, infatti il narcisista vive in un mondo di apparenze. E anche qua hai tante possibilità di sottomettere il narcisista, facendogli credere che il suo comportamento verrà pesantemente giudicato in modo negativo, il suo comportamento verrà giudicato, verrà squalificato. Quindi temono di essere squalificati, temono di essere, come dire, tartassati. Quindi questo è un altro punto debole che ti suggerisco di usare. Quindi altro punto debole del narcisista è il rifiuto. Il narcisista teme tantissimo il rifiuto, teme tantissimo di essere rifiutato, teme tantissimo le persone che gli dicono no, guarda che io non sono disponibile a uscire con te. Questa è un'altra cosa, è un'altra leva che tu hai. Paradossalmente, quindi siccome teme il rifiuto, il narcisista lo conquisti tra virgolette o lo manipoli o lo fai soffrire utilizzando la psicologia inversa. Il che non vuol dire scontrarti con il narcisista. Quello che dice Tug è vero, non devi scontrarti con il narcisista. Tu non devi, ma devi usare la psicologia inversa. Guarda che no, non riesco, non sono disponibile, non sono interessata a questa cosa. Oppure spingendolo verso altre persone, no? Quando il narcisista ti triangola, tu cerca di farla andare verso quell'altra persona con la quale ti triangola. Disinnescherai rapidamente e quasi istantaneamente il triangolo che il narcisista ti farà. Perché sarai tu stesso a spingerlo verso quella persona. Eh, ma perché non esci un po' con la tua ex? Ma sì, guarda, mi fa piacere a me se frequenti un po' la tua ex, così parli dei vecchi tempi, dai, vedi, la fai. È ovvio che per fare questo, come dice giustamente qualcuno, devi imparare a mantenere il distacco del risultato. Impara a giocare. Anche il narcisista ti può insegnare qualcosa. Ti può insegnare a giocare. Il problema che se non te ne liberi è perché sei una cogliona, perché ti innamori. Quindi il vero coglione non è il narcisista. Il vero coglione è chi si innamora del narcisista. Perché se tu non sei innamorato del narcisista, puoi giocare, puoi prenderlo per il culo. Ovviamente il discorso del, se uno è un padre o una madre narcisista ed è un bambino piccolo, purtroppo è in una condizione di debolezza. Perché per un bambino piccolo quello che il papà dice è la verità. Per un bambino piccolo quello che la mamma dice è la verità. Perché un bambino piccolo non ha altri punti di riferimento. Quindi purtroppo i bambini sono condizionabili. E quindi lì diventa poi un ternalotto, diciamo, no? Se escono dalle manipolazioni. Ne subiranno comunque le conseguenze pesantemente. Ma il concetto di fondo è che spesso anche adulti, no? Cascano in queste, diciamo, cascano in queste situazioni. Anche queste persone, diciamo, adulte, si innamorano, ad esempio, di queste situazioni. Quindi bisogna imparare, diciamo, veramente a amare se stessi in modo profondo. Perché io credo che spesso le persone che si innamorano del narcisista sono persone talmente bisognose che, piuttosto che niente, diciamo, piuttosto che niente, meglio piuttosto. Piuttosto che niente, meglio piuttosto. Ma ovviamente il problema è proprio, diciamo, il problema è che se tu sei adulto hai delle responsabilità. Cioè, se tu sei adulto e ti innamori di un narcisista, la responsabilità è tua. Io salverei addirittura il narcisista. Perché una persona che, adulta, si innamora di un narcisista, è forse peggio del narcisista stesso. Perché è una persona che ha l'autostima sotto i piedi. È come, diciamo, una persona sa quello a cui va incontro. Perché non è possibile, secondo me, non riconoscere il narcisista. Certo, potrei non riconoscerlo per un mese, per due mesi forse, ma poi interagendo imparare a riconoscerlo. E teniamo presente che il narcisista non è il libertino. Perché poi c'è anche pieno di gente che dice, ah, siccome quello ti ha lasciato è un narcisista. Siccome quello ti ha trombato e poi ti ha detto ciao è un narcisista. Uno che ti tromba e ti dice ciao non è un narcisista. Cioè, non necessariamente. Anzi, secondo me non lo è. Perché il narcisista purtroppo non ti dice ciao. Il narcisista non è quello che ti tromba e poi ti dice, arrivederci e grazie, è stato un piacere. Quello non è un narcisista. Il narcisista ti si aggrappa. Il narcisista ti vuole spremere. Uno che ti tromba e che ti dice, arrivederci e grazie, è semplicemente uno che o voleva farsi una scopata e non gli interessava nient'altro. Oppure non è rimasto soddisfatto della scopata. Oppure magari, non lo so, qual è sia il motivo, ma sicuramente non è un comportamento dal narcisista. Perché il narcisista ti si aggrappa, ti si aggrappa, diciamo, ti rompe i coglioni pesantemente. Il narcisista non è uno che vuole farsi una scopata e basta. Il narcisista è uno che ti vuole spolpare, ti vuole togliere energie. Quindi, chi, diciamo, chi ti vuole scopare una volta e basta, probabilmente è uno che non ne frega nient'altro. Potrebbe essere un libertino, potrebbe essere una persona che gli interessa semplicemente avere delle avventure perché non vuole impegnarsi. Ma lì, è come dire, sta a te capire se gliela dai e perché comunque ti farà piacere anche a te. Quindi la sessualità, da quel punto di salire, dovrebbe essere vista come un qualcosa di piacevole, no? Se tu gliela dai, buon, è un qualcosa di piacevole anche per te, ma deve essere vissuta senza impegno. Anzi, queste persone spesso le seduci se dopo scappi tu, perché, diciamola, magari il loro frame di comportamento è ti trombe poi scappo e quando incontrano una donna che ti trombe e scappa lei, iniziano tutta una serie di cose. Ma il narcisista non ha di sotto questi comportamenti, il narcisista ti farà soffrire, poi ti lascerà, poi ritornerà, andrà avanti e indietro. È veramente un comportamento diverso dal libertino. Il libertino è il libertino, il narcisista è il narcisista. Poi, ovviamente, i narcisisti sono anche libertini, ma i libertini non sono anche narcisisti. Quindi, poi ovvio ci sono state tante persone che cercano di capire quali sono le situazioni che, diciamo, salutiamo DAC, che possono aver generato questa eziologia narcisistica, no? Beh, le cause potrebbero essere tante. Sicuramente ci sono cause ambientali, cause sociali, i social di oggi favoriscono, secondo me. C'è una componente genitoriale dei genitori separati. Io credo che i genitori separati possono alimentare questa ferita narcisistica, no? Perché è un bambino che, diciamo, ha i genitori che poi si separano, magari quando è adolescente, che ha bisogno, avrebbe bisogno di avere i genitori vicini e questi si separano, si sente un po' svuotato, quindi mette in atto dei meccanismi di difesa. Io credo che la separazione dei genitori sia uno dei fattori che potrebbero essere fattori scatenanti fondamentalmente. E come dice la nostra Patrizia, la carampagnocca perotti, quando una relazione tossica va chiusa. Ma un libertino non è che aspetta che tu chiudi la relazione, la chiude prima lui. Eh, la chiude prima lui. Sì, certo, poi si cresce, no? È ovvio, poi si cresce, certo, poi si cresce, però infatti uno dovrebbe crescere, ma spesso poi quando il danno è fatto, se è fatto soprattutto in età prelogica, diventa più complicato. Certo che ci sono persone che hanno famiglie splendide e diventano magari narcisisti, persone che hanno famiglie di merda, vivono in orfanatrofio, genitori che si separano, eccetera, eccetera, genitori che non si parlano più e non diventano niente. Quindi c'è sempre un fattore poi individuale, no? Che dipende da tante situazioni. Quindi comunque la cosa interessante è che quello è un altro punto debole. Un altro punto debole del narcisista è quello di amplificargli le sue paure. Sono le sue paure. I narcisisti sono pieni di paure. Quindi cerca di amplificargli le paure. Più paure gli amplifichi, più risultati otterrai. Come diceva qualcuno, i narcisisti temono la morte. Il narcisista teme la morte. Il narcisista è un reattore a vuoto, ha paura di morire, ha paura di ammalarsi, è ipocondriaco. Il narcisista è pieno di paure, ha paura di essere abbandonato, ha paura di essere scartato e quindi lì lo potrai tenere per i coglioni. Diciamo, anzi la tattica migliore per sottomettere il narcisista, sapete qual è? Abbandonarlo quando il narcisista è nella fase di love bombing. Se tu abbandoni il narcisista nella fase di love bombing, dandogli una spiegazione generica, la spiegazione che vi consiglio è non mi sento sufficientemente amata. Non mi sento sufficientemente amata. Se tu utilizzi questa frase, se tu utilizzi questa frase, non mi sento sufficientemente amata, il narcisista, il narcisista diciamo si sente, si sente diciamo da un certo punto di vista distrutto perché tu lo rifiuti proprio quando lui ti sta facendo love bombing, quando lui ti sta facendo bombardamento d'amore, che è una teatrale dimostrazione d'amore ma non è amore. Ecco lì devi iniziare a scartarlo. Questo lo prende contropiede perché tanto poi il narcisista normalmente cosa fa? Normalmente il narcisista aspetta che tu, come possiamo dire, aspetta che tu ti coinvolgi attraverso il love bombing e poi ti scarta lui. Se tu lo scarti prima, quando lui ti fa love bombing, hai praticamente chiuso il cerchio, hai ottenuto un grande risultato. Non devi scartarlo dopo ma devi scartarlo prima, prima che lo faccia lui. Ovviamente ho già detto, insomma ci sono tante modalità per capire se hai veramente a che fare con un narcisista o meno e quindi prima, ecco perché il narcisista prima passa nella fase di breadcrumbing, no? Ti dà le briciole e poi una volta che hai finito le briciole, diciamo di darti le briciole, passa da una fase idealizzante a una fase squalificante a una fase di breadcrumbing, cioè ti dà le briciole nelle relazioni sentimentali effettive e quando ti dà le briciole tu, perché dopo la fase del breadcrumbing c'è la fase dello scarto, quando ti dà le briciole tu anziché farti scartare lo scarterai, ma l'ideale sarebbe scartarlo ancora a monte nella fase di love bombing senza arrivare addirittura alle briciole, però ancora se arriva alle briciole può essere ancora valido come momento per scartarlo, cioè scartarlo vuol dire che gli fai vivere il rifiuto, ma gli fai vivere anche l'abbandono e gli fai vivere anche l'indifferenza, quindi torniamo nella triade che distrugge il narcisista, indifferenza, rifiuto e abbandono, che il nostro, diciamo, Vin Dreams aveva decodificato con ira, indifferenza, rifiuto e abbandono, è un qualcosa di interessante. Bene, vi ricordo di mettere un like, iscrivervi al canale, attivare...